È una manifestazione che si terrà in tante piazze d'Italia ed è una manifestazione specifica per artisti, musicisti e tutte quelle categorie che si sono trovate, a mio avviso e non solo mio, immotivatamente e ingiustamente chiuse e private della loro possibilità di svolgere il proprio mestiere. Sarò quindi qui, vedete alle mie spalle un teatro tristemente e ancora immotivatamente vuoto, il Teatro Rossini della Città della Musica, sarò io, porterò un pianoforte a coda qua proprio su questo suolo insieme a una ventina di altri musicisti, amici e anche persone che si sono giunte, che mi hanno contattato quando hanno saputo di questo evento e quindi manifesteremo la nostra arte, ricorderemo alle persone, ai tanti che sembra in qualche maniera esserselo dimenticato avendo accettato questa nuova normalità che noi non accetteremo mai, quindi riporteremo la musica in presenza, come si dice, nell'attesa che si riaprano i teatri. La manifestazione a carattere nazionale, il 6 febbraio in tante piazze d'Italia, gli artisti sotto lo slogan l'arte è vita, perché l'arte è vita, manifesteranno, riporteranno la loro musica in presenza e auguriamoci che siate in tanti. Quindi qui sabato 6 febbraio, Teatro Rossini, Piazza Lazzarini, dalle 15 alle 19.